Ci ha provato sino all'ultimo, poi è stato costretto ad esistere. Antonio Mosticchio, gestore del Multiplex Fasano di Taviano, era pronto a un'azione di disobbedienza e in barba alle prescrizioni dell'ultimo DPCM, che tra le altre cose prevede la chiusura di cinema e teatri, aveva deciso di aprire regolarmente e proiettare i film in programma, come ha sempre fatto, negli ultimi vent'anni. Io resto aperto aveva scritto in un cartello apposto all'esterno del cinema, subito rimosso. Pensavamo insieme al mio avvocato che questo decreto era illegittimo, in quanto non c'è prova scientifica né tecnica che esistono infezioni nei cinema, quindi è l'unico luogo sicuro. Poi ha preso atto di una sanzione da 1.500 euro per lui e i suoi dipendenti e di 400 euro per gli avventori, oltre a uno stop di 30 giorni alla riapertura del cinema. Io non mi posso sentire colpevole di far pagare 400 euro ai miei clienti, quindi se vengono 20 persone mi costa 8.000 euro perché dovrei pagarlo io. I carabinieri erano già davanti alla porta d'ingresso, ma lo spauracchio più grande era la notizia del possibile intervento dei caschi blu. C'era il rischio dell'antisommossa perché è previsto praticamente in caso di terrorismo, perché questo per loro è terrorismo. Voglio lasciare l'appello a tutti gli esercenti che non hanno aderito alla mia iniziativa perché da solo sono praticamente vulnerabili e sparabili in qualsiasi momento. Se ci uniamo potremmo fare un po' di luce in più e dare un po' di forza in più a questo settore che sta morendo.